buonasera trasmetto da una stanza non solita perché sono stato scacciato da tutti i locali della casa o resto di una famiglia che fa che sta facendo altro e quindi ho rubato una una stanza dei miei figli allora le cose ovviamente non stanno andando benissimo come ben vedete e chi pensava che tanto tutto sommato non ci fossero problemi non appena si è avvicinato una pompa di benzina ha capito che c'era qualche piccolo problemino perché in breve in breve siamo arrivati al momento anche a 2 euro e 4 quindi abbiamo avuto un rialzo in certi casi superiore al 20 per cento in pochissimi giorni 20 per cento ora permettetemi di parlare un attimo di economia per spiegarvi un paio di cose perché sull'inflazione come sapete qualcosa qualcosa la so anche perché ve ne ho parlato in tante occasioni allora inflazione in quanto aumento dei prezzi se vi ricordate anche nelle descrizioni quando vi ho fatto le basi e così questo tipo dovete tenere presente che l'aumento dei prezzi è innanzitutto asimmetrico vale a dire i prezzi aumentano non sempre nello stesso modo come ho l'esempio che faccio sempre se io sono un koala e aumentano i prezzi delle foglie di eucalipto e scende tutto il resto non me ne frega niente perché la mia inflazione è quella che mi colpisce perché mangio solo foglie di eucalipto e quindi se aumentano i prezzi e scendono quelli degli altri anche se guardo sui giornali che dice che i prezzi scendono dal mio punto di vista per quello che concerne la mia vita i prezzi salgono in questo caso devo ricordare due cose io normalmente vi ho anche detto che l'inflazione non sarebbe stata nulla di male ma attenzione io stavo parlando ovviamente dell'inflazione da domanda quella se si mettono in giro troppi soldi avete presente la classica preoccupazione per un sacco di anni con cui ci hanno rotto le palle dicendo che non si poteva stampare che bisognava fare austerità che bisognava fare insomma danneggiarci la vita anche quando la vita avremmo potuto godercela diciamo così era il momento dell'inflazione della temuta inflazione da domanda e io che dicevo ma che problema c'è sull'inflazione su un po di inflazione da domanda per intendersi l'inflazione da domanda è quella dei terribili anni 80 no ricordati da tutti come uno dei fra i periodi peggiori della storia della storia italiana non ecco poi magari non so qualcuno poteva trovare volgare il drive in ecco però non credo che fossero stati fra i periodi peggiori della storia italiana agli anni 80 c'era benessere c'era crescita il fatto che ci fosse benessere crescita comportava che i prodotti dagli scappali sparivano velocemente a quel punto i negozianti alzavano i prezzi perché dice se spariscono una volta spariscono due la terza volta li faccio pagare di più e quindi c'era inflazione da domanda che è una cosa che presa in modo moderato non è terrificante andiamo invece a quello che sta succedendo adesso non mi pare che sia una situazione di inflazione da domanda in cui tutti navighiamo nell'oro e quindi compriamo dei gran prodotti in questo caso è una roba molto più pericolosa che è l'inflazione da offerta cosa succede succede che per una serie di meccanismi che erano già in atto peraltro ma che vengono oltretutto esacerbati al massimo grado dalla guerra in ucraina delle sanzioni potenziali con la russia perché al momento non ci sono dirette conseguenze ma tutti immaginano che ci saranno ovviamente quindi si accumula si fa si fa scorta a quel punto noi abbiamo che dei pre dei prodotti essenziali come per esempio è il caso della benzina che noi importiamo crescono molto di prezzo perché si riducono cioè c'è meno di quel prodotto sul mercato essendo che c'è meno il prodotto di quel mercato lo comprano meno persone a un prezzo più alto perché la domanda invece era costante sempre le solite questioni con l'economia dovete ricordarvi domanda offerta no si riduce l'offerta la domanda è fissa aumentano i prezzi se aumentano i prezzi della benzina a cascata aumentano i prezzi anche di altri prodotti perché ovviamente dovete tenere presente che qualsiasi prodotto è trasportato tanto per dirne una no che le non so la plastica con cui vengono fatte le bottiglie alla fine sempre da da lì arriva sia per la produzione che che per che per il materiale quindi cose essenziali di cui aumentano i prezzi cos'è l'effetto di di questa di questa situazione e l'effetto non è piacevole perché l'effetto si si definisce crowding out no cosa cosa significa significa che se essenziale una cosa che io devo comprare e aumenta il suo prezzo dato che non ho più soldi no allora che cosa succede se io non ho più soldi ma aumentano i prezzi di cose che in ogni caso compro devo ridurre la spesa su cose che posso ritenere non essenziali questa cosa cosa comporta che se si riduce la spesa sulle cose non essenziali perché si deve concentrare sulle essenziali è una crisi di domanda ma è asimmetrica voi capite no quindi ci sono alcuni prodotti di cui non ci sarà domanda e alcuni prodotti in cui c'è forte domanda perché sono essenziali ma c'è poca offerta il risultato è disastroso disastroso non solo per riuscire a reagire a questo sistema ci sono degli strumenti che purtroppo non abbiamo più perché ma allora quando vedo marcello che scrive dietro tutto questo c'è una regia ben precisa io non lo so se c'è una regia ben precisa perché nessuno ha obbligato nessun altro a fare a fare invasioni o similari ma in ogni caso si stava andando verso una una direzione e basta vedere lo speech fatto dalla bce pochi mesi fa dove quella fenomena del 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 membro tedesco della 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 bce quella stessa che aveva suggerito la lagarda di dire che non erano lì per chiudere gli spread spiegava perfettamente che era un'ottima cosa che ci fosse un aumento dei prezzi dell'energia perché così facendo aumentando i prezzi dei combustibili fossili la gente sarebbe stata allegramente convinta a spostarsi sulle rinnovabili e quindi a fare sulla famosa loro bellissima transizione green fit for 50 no c'è tutte queste belle cose qua del che l'unione europea aveva apparecchiato una specie di green pass dell'energia cioè io ti costo non ti obbligo è per carità tu fa un po quello che vuoi ma in realtà ti costringo ti rendo la vita difficile su determinate fonti energetiche per spostarti da altre bene all'interno di questo allegro meccanismo che stava già funzionando bene nella loro testa si compiacevano guarda il prezzo del gas è salito di quattro volte che bello no e similari è arrivato il carico no cioè quindi giochi il 3 di briscola e poi arriva colasso e hai la guerra in in ucraina cosa succede però in una situazione del genere dove questi allegramente dicono che bella cosa che aumentano i prezzi dell'energia perché così facendo facciamo la transizione green se uno non capisce che questa cosa è totalmente regressiva dal punto di vista dell'impatto sulla gente è un criminale cosa significa regressiva significa che se io sono uno che ha uno stipendio di 1300 euro e la bolletta quindi non la vacanza a san moriz se la bolletta della luce del telefono o il pieno della macchina alla fine mi raddoppiano significa che io faccio la fame viceversa se uno ha la possibilità di far variare il proprio la propria rendita perché non ha lo stipendio fisso o similari sopravvive un po meglio e se uno è cosiddetto ricco in ogni caso anche lui avrà una ridotta capacità di spesa rispetto a prima ma è meno impattato rispetto al che neanche il povero era quello che in teoria per qualcuno gli diceva anche fortunato tu che hai un impiego da 1300 euro stai benone ecco però questo questo che aveva non un benessere perché stiamo parlando del del minimo indispensabile ma aveva uno uno stipendio in questo momento è colpito esattamente in fronte lo scenario quindi non è più anni 80 ma è anni 70 nel momento stesso in cui c'era stato il primo shock petrolifero io ero un bambino qualcuno probabilmente l'avrà l'avrà vissuto no fra quelli che fra quelli che mi guardano che so vice vongolo così questo tipo che ha qualche annetto annetto più di me ma altrimenti andatevole a guardare sui libri cioè è stato un momento in cui i prezzi del petrolio schizzarono in modo assolutamente verticale e a quel punto ci fu una situazione esattamente analoga a questa no quindi con uno shock da offerta cosa successe all'epoca beh successe che c'erano due ammortizzatori uno paese cioè vale a dire quelli più impattati perché erano più importatori di energia come potevamo essere noi rispetto ad altri si trovavano quindi a dover importare un valore maggiore di di prodotti energetici quindi e quindi di petrolio questo questa maggior quantità di importazioni cosa faceva fare faceva scendere il prezzo della moneta quindi la lira si svalutava rispetto a paesi che erano meno impattati da questa situazione e quindi prodotti fatti dall'azienda italiana mantenevano la propria competitività ci siamo quindi la flessibilità del cambio fungeva da ammortizzatore rispetto a altri stati che erano meno impattati dallo shock esterno per cui la mia azienda che produceva mio padre lavorava la pirelli i pneumatici pirelli a causa della discesa della lira all'estero in ogni caso venivano sempre comprati e quindi l'azienda non aveva il pericolo di dover chiudere ma cosa succedeva allo stipendio di mio padre che era esattamente nella condizione che vi ho detto prima quindi di uno con era un impiegato e quindi con con uno stipendio dignitoso ma che non avrebbe potuto sopportare uno shock di questo tipo e beh c'era la scala mobile cosa significa la scala mobile significa che nel contratto di lavoro era specificato che gli stipendi sarebbero stati adeguati all'inflazione per cui chiunque lavorava con uno stipendio fisso questo stipendio era mantenuto stabile in termini reali dalla scala mobile quindi a gennaio uno guadagnava mille non c'erano gli euro c'era un milione e cento a febbraio se ci fosse stata un'inflazione era un milione e centocinquanta a marzo era un milione e duecento anch'io quando ho iniziato a lavorare ho iniziato nel nel 90 e avevo la scala mobile quindi di mese in mese il mio stipendio saliva ma non è che saliva perché mi davano più soldi saliva perché compensava l'effetto dell'inflazione voi capite che in una situazione del genere se anche il governo per cercare di limitare le importazioni o i consumi se ne usciva fuori con delle idee all'epoca c'è non so le targhe alterne o cose di questo tipo quindi si poteva un po come quando qua fanno le cose contro il l'inquinamento no allora a un certo punto il martedì poteva andare se la targa finiva col numero pari mercoledì con quel numero di ispari no o similari ma la vita delle persone non era drammatica innanzitutto non rischiavi di perdere il posto perché le imprese non fallivano il tuo stipendio saliva di mese in mese i prezzi salivano di mese in mese altrettanto ma non solo c'è anche un fattore psicologico tale per cui in una maniera o nell'altra il fatto di vedere lo stipendio il cedolino crescere ti faceva dare un senso di ottimismo non so come come dire no per cui in una maniera o nell'altra è vero che sarebbero c'erano degli impatti asimmetrici anche in quel caso ma non era vissuto come un dramma ecco in questo caso io temo che nel momento stesso in cui tutte e due questi fattori di bilanciamento sono preclusi perché non possiamo svalutare ma verrà in mente a qualcuno che se noi non possiamo svalutare a quel punto chi ha un impatto minore dall'import di energia ha un vantaggio competitivo non immediatamente colmabile con niente rispetto alle nostre imprese forse qualcuno non sa che in francia c'è una legge tale per cui fatta varata ben prima e di adesso dell'emergenza non l'han fatta direttamente da credo fosse settembre dell'anno scorso dove le bollette non possono salire più del 4 per cento rispetto all'anno precedente ok se io sono un'impresa e la mia bolletta francese la mia bolletta aumenta del 4 per cento io sono l'impresa francese sta aperta ok passa il concetto per cui se noi non possiamo svalutare perché non abbiamo la nostra moneta questi squilibri fra i diversi stati di questo bellissimo mercato fortemente concorrenziale come li saniamo uno due se io non posso sbloccare la scala mobile sempre per lo stesso motivo perché non avendo la mia moneta moneta e non posso quindi gestire la differenza di competitività se io datore di lavoro mi metto a pagare di più i miei dipendenti perché adeguo gli stipendi alla scala mobile un altro non lo fa e il francese appunto non lo fa in ogni caso non vendendo i miei prodotti aumentando gli stipendi dei miei dei miei dipendenti cosa potrà mai andare male in ogni caso finisce che tiro giù la sala cinesca bene così facendo noi andiamo sul sul nel nella direzione di chiudere le nostre aziende ok perché non abbiamo la possibilità di fare di di attivare la scala mobile e non abbiamo la possibilità di svalutare per cui io direi senza che qualcuno dicesse ama tanto loro sono avvantaggiati già perché loro hanno il posto sicuro e così via benissimo però intanto dove si può attivare la scala mobile senza rischio di fallimento quindi l'impiego statale quindi imprese concessionarie quindi imprese in ogni caso di settori protetti no similari e lì secondo me la scala mobile va sbloccata e bisogna cominciare ad adeguare quindi cominciamo evitare di mandare alla fame quelli perché se io sono un poliziotto e prendo 1300 euro o un carabiniere o un insegnante o cose questo tipo e devo andare al lavoro a scuola o al lavoro al posto di polizia e la benzina mi è triplicata e la bolletta a casa a un certo punto c'è anche rischio che costruisci incazzi pur non avendo nessun rischio dal punto di vista dell'azienda no di di fallire per cui secondo me dove si può sbloccare la scala mobile io suggerirei di farlo e provvederò suggerirlo ma tanto non mi ascolterà cosa si potrebbe fare invece per gli altri beh la risposta è quella che draghi non farà mai i mini bot adesso qualcuno ride qualcuno scherza qualcosa tipo sì senza dubbio ma intanto avete visto che mettendo in circolo i crediti fiscali con i super bonus del 110 per cento un settore che era morto pur fatto con i piedi è perché una roba fatta dal movimento 5 stelle è difficile che sia fatta particolarmente bene quindi avete truffe cose sbagliate similare però intanto con il super bonus del 110 un settore che era morto è stato riattivato la stessa roba succederebbe per il resto dell'economia se io mettessi in circolo questo equivalente di crediti fiscali vale a dire i mini bot in quantità necessaria a compensare il calo di potere d'acquisto per cui se uno sta prendendo se uno appunto è un dipendente privato e ha uno stipendio di 1300 euro se io ogni mese gli do l'ho presi quindi se lo ricordiamo gli do 150 euro in mini bot cosa ottengo ottengo che questi 150 euro dati in titoli di stato di piccolo taglio perché mini bot questi sono titoli di stato di piccolo taglio non posso spenderle in beni immediatamente importati che non passano per il nostro sistema economico perché non posso pagarci qualcosa su amazon con i mini bot ok mini bot posso spenderli in un negozio fisico non posso pagarli su su un sistema di commerce che magari va a prendere una produzione in corea me la porta in casa senza che nel nostro sistema economico non sia arrivato nulla viceversa io posso andare in un negozio oppure posso farci il pieno perché tanto eni parastatale o quantomeno società maggioranza statale me li accetta ok quindi io ho un'immediata capacità di spesa in più che mi compensa e intanto li metto in circolo perché io non lo so che cosa succede in un mondo mentre noi abbiamo i nostri di problemi relativi alla produzione la germania ne altri di problemi relativi che non sono tanto relativi alla produzione ma sono relativi ai risparmi perché se in germania mi trovo un'inflazione che va al 10 per cento e i tassi di interesse sono a zero significa che tutti i loro bellissimi fondi pensione no e similari che sono in teoria capitale garantito tanti saluti e secondo me si incazzano e nel momento stesso in cui si incazzano e gli parte l'embolo di dire io devo combattere l'inflazione quindi devo alzare i tassi no e così questo tipo che significa la morte se io penso di contrastare un'inflazione da offerta alzando i tassi vuol dire che sono cretino oppure sono trice perché era quello che aveva fatto no vi ricordate il nostro geniale trice nel momento stesso in cui aveva avuto un attimo di inflazione da offerta aveva ben pensato di alzare i tassi affossando l'economia sul nascere quindi io banca centrale se penso di contrastare questo tipo di inflazione alzando i tassi sono un po' matto infatti già oggi quel commento che c'è stato in banca centrale dove dicono no noi adesso smettiamo di comprare i titoli di stato sul mercato con con i sistemi di riacquisto ma che cos'è se non alzare i tassi alzi tassi a lungo termine infatti guarda caso lo spread più 15 senza che borghi dicesse una cosa io ero lì a sentire che cosa mi diceva padoan e tria in quel momento guarda caso pur con draghi che è così bravo che è così sicuro così questo tipo però se parla la bce dice che non compra più i titoli lo spread sale e quindi salgono i tassi di interesse e se salgono i tassi di interesse dove vai per cui tenuto presente che il sistema potrebbe anche non tenere avere la famosa ruota di scorta in giro io dormirei un po' più tranquillo ridete ridete coglionazzi ai mini bot borghi quello non era mica quello che metteva in giro i mini bot ma se ci fossero già stati in giro i mini bot ma quanto più tranquilli eravamo quanto più tranquilli eravamo ridito adesso dei miei mini bot col tuo stipendio che sta andando a zero cioè noi abbiamo tolto gli ammortizzatori dalla macchina col cambio abbiamo tolto i paraurti abbiamo tolto i freni finché tutto andava bene tranquillo adesso che le cose non vanno bene c'è un lievissimo problema però scusate io in questa situazione è ovvio che io preferirei che tutto si sistemasse se domani c'è un armistizio in ucraina e a un certo punto tutti iniziano ad amarsi esattamente come prima per me è perfetto è ovvio che sarebbe il mio sogno insomma sarebbe quello che ma se le cose per un qualsiasi motivo andassero a remengo è l'unica e a questo punto e l'unione europea non riuscisse a gestire le le differenti spinte che un fortissimo cambiamento un fortissimo shock esterno porta a delle economie ingessate senza il fattore di riequilibrio del cambio ma ci pensate che bello se devi gestire il ritorno alla tua moneta con draghi la nemesi la nemesi l'unione europea non tiene più e draghi costretto a gestire il ritorno alla lira a quel punto li fa lui minibot signori sarebbe nella disgrazia perché significa che lo scenario sta diventando veramente drammatico però tanto poi anche anche nel medioevo la gente viveva c'è l'attenzione riusciamo in ogni caso a prima o poi a venirne fuori mi trasferisco in una tenda in sardegna a pesca e porcellino sinceramente vado avanti non ho delle enormi esigenze sinceramente comunque sarebbe veramente interessante eh sì temo che prima o poi spolpano tutti e prima di prima di cedere o così questo tipo ne succederebbe di tutto ecco probabilmente però sarebbe veramente curioso insomma sarebbe veramente la nemesi più più incredibile e quindi purtroppo la situazione è così cioè tu dovresti mettere in circolo molti soldi per compensare quelli persi dovresti andare in particolar modo sugli stipendi bassi e fissi come i prezzi della conad quindi chi ha stipendio fisso e basso in questo momento chiaramente non ce la può fare allora avrebbe bisogno di un'integrazione l'integrazione avrebbe bisogno di una flessibilità dei salari che la rigidità del cambio non gli consente e quindi o se ne viene a una con gli aiuti di stato per cercare di pareggiare o altrimenti vedrete che le divergenze in unione europea diventeranno molto difficilmente tenibili e ci credo che voi operai siete 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 rovinati ma non non è tanto lo sciopero che 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 vi aiuterà ma quanto un prendere atto da parte di tutti che questa situazione rischia di diventare non non tenibile a lungo poi ragazzi io con il lockdown e similari io ho visto cose che io non immaginavo sulla nostra capacità di resistenza cioè se mi avessero detto che la gente resisteva chiusa in casa per mesi anche senza stipendio senza niente io non l'avrei mai detto quindi può anche essere che le nostre capacità di resistenza anche a fronte di bollette che si triplicano di benzina che raddoppia e di stipendi che non che non aumentano magari in qualche maniera ce la si fa lo stesso andare avanti ma io penso che le tensioni in questo momento devono non essere sottovalutate perché rischiano poi di diventare veramente pericolose e certo che se in questa condizione la grande ideona è quella del catasto nel momento stesso in cui tu il problema tuo è il reddito che viene a mancare vai a attaccare il patrimonio con cosa lo paghi tu l'aumento delle tasse sul patrimonio nel momento stesso in cui non hai il reddito ma vedete voi per cui anche per questo non deve passare neanche da lontano l'idea della riforma del catasto perché va esattamente nella direzione contraria rispetto a quella che dovremmo fare e altrettanto poi la questione del green pass c'è in un momento in cui ogni consumo sarebbe benedetto no di cose tu lasci delle persone fuori dalla forza lavoro e senza stipendio questi come campano c'è il sospeso dallo stipendio per 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 questioni di green pass la bolletta non gli arriva no non mi sembra che si vada veramente da nessuna parte così facendo per cui la ricetta la prognosi la diagnosi è facile la prognosi è in fausta nel momento stesso in cui non partono alcune cose profonde nel nel sistema nel sistema europeo penso che in una maniera o nell'altra potranno concedere per andare avanti un po' uno scostamento di bilancio per un qualche tipo di sostegni questo credo che lo faranno però però deve essere fatto in fretta noi lo chiedevamo da tempo e poi ovviamente per la benzina noi abbiamo il margine clamoroso delle accise vi ricordo che era un nostro programma elettorale non si poteva fare col movimento 5 stelle perché loro anzi le avrebbero volute alzare le accise come ci hanno detto subito perché la loro grande ideone era l'auto elettrica per cui abbassare i prezzi dell'energia fossile quindi della benzina e del diesel anatema anatema anzi super tassa per i veicoli inquinanti no e detassazione per l'auto elettrica questo era con il loro governo adesso vediamo un po' se le cose sono cambiate se ancora tengono tengono duro su questa cosa purtroppo ricordate che la maggioranza ce l'hanno sempre avuta loro dall'inizio e quindi se loro non vogliono una cosa questa cosa non si fa non si faceva noi abbiamo portato avanti adesso sia lo stop catasto vediamo in aula e vediamo al senato ecco cosa se sarà anche lì con un Colucci che si perde per un voto adesso abbiamo portato avanti anche invece un testo per l'abolizione delle accise anche qui adesso vediamo chi ci starà e chi non ci starà che adesso non ci sono mai stati dall'inizio della legislatura vediamo dopo perché è ovvio che almeno lì un minimo di margine relativo al taglio delle accise che ci consentirebbe di avere un immediato effetto sul prezzo della benzina e ce l'abbiamo dall'altra parte invece compito a casa leggetevi cortesemente il documento sull'inflazione da relativa ai costi della transizione ecologica da parte della BCE e rabbrividite perché mi sembra che non abbiano assolutamente ben chiaro di dove si va a fare e di dove colpisce un aumento della materia prima delle fonti di energia e della benzina grazie libero la stanza ai miei figli mi spiace di avervi sollecitato delle riflessioni non esattamente allegre ma questo è e bisogna continuare a combattere e and tourism